Appuntamento mercoledì 8 novembre alle 9 nei pressi della statua di Modugno a Polignano a mare per dare il via al cammino per volare di solidarietà. Sulla rotta dei due mari, un'iniziativa ideata dall'avvocato Cosimo Di Bello e promossa dall'associazione Ali per volare Donato Marra che sta raccogliendo fondi per realizzare una foresteria nei pressi dell'ospedale Moscati di Taranto. Si vuole dare un punto d'appoggio gratuito per tutti i familiari dei malati oncologici, chiunque potrà unirsi all'intero o a parte del cammino che percorrerà Castellana Grotti, Alberobello e Locorotondo, Martina Franca, Crispiano e l'arrivo a Taranto dopo 5 giorni e 136 chilometri. Una raccolta fondi inusuale che unisce il mar Adriatico a quello ionico e parte dall'esperienza personale della presidente Stefania Terlizzi che un anno fa ha perso prematuramente suo figlio proprio a causa di un tumore. Antenna Sud è partner dell'iniziativa. Abbiamo creato la piantina, abbiamo creato come sistemare diversi piani, come stabilire il piano terra dove ci saranno comunque sala per lo psicologo, sala pediatrica, sala d'attesa, ufficio informazioni diretto con i medici dell'ospedale Moscati. L'associazione tra un po' compirà un anno e in questi 11 mesi abbiamo portato avanti tantissime iniziative e nel tempo ci stiamo rendendo conto che l'associazione sta svegliando gli animi. Non serve chissà che una grande preparazione, una t-shirt, un pantaloncino, speriamo non piova e tutto va liscio. Assisterete anche chi ha le prime armi? Assolutamente. Noi daremo chiaramente un supporto tecnico sul cammino, daremo un supporto logistico in quanto le nostre strutture convenzionate nei vari paesi hanno offerto ospitalità gratuita ai nostri camminatori. Siete tutti liberi di partecipare anche un chilometro, anche 500 metri.